Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi Viola di oggi. Si parla molto del futuro di Paolo Sosa oggi sui giornali, sui quotidiani e chiaramente il futuro di Sosa rimane appeso a certe scelte, a certe parole, a certe prese di posizione che l'allenatore ha manifestato nei mesi scorsi, nelle settimane scorse. Rimane appeso anche ad una carriera che dimostra il fatto che Sosa quando non vede ambizione in una società, quando non vede la voglia di migliorarsi cambia squadra, lo dice la storia recente anche se breve di Sosa allenatore. E allora se la Fiorentina non arriverà a terza sembra possibile che Sosa chiederà qualche garanzia in più alla società, chiederà magari di lottare per la Champions, per lottare per la Champions occorreranno giocatori importanti, la risposta della Fiorentina potrebbe non essere positiva in questo senso. Allora vedremo cosa accadrà. In caso di terzo posto invece credo che Sosa rimarrà un altro anno a Firenze per fare esperienza in Champions, perché lui dal punto di vista di allenatore non ha esperienza in questa competizione, per migliorare, per vedere dove riesce a portare questa Fiorentina. Senza Champions credo che il futuro di Sosa potrebbe essere lontano da Firenze, ma ancora ci sono pagine importanti da scrivere, ci sono partite importanti da affrontare, c'è un finale di campionato che può regalare ancora tante sorprese alla Fiorentina e ai suoi tifosi. Allora forse è presto per parlarne, anche se qualche accenno era giusto farlo. A domani con i 101 secondi Viola, un saluto e una buona giornata da Marco Dell'Olio.